Mem, 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 coraggio Antonio, moriamo da forti, signor Marchese, io preferirei vivere da debole, mem, oi oi, questa buca mi sta stretta di collo, io porto il 16, mem, tutti con infedeli, soberete il castigo destinato ai traditori, i ribelli del deserto si serviranno delle vostre teste come bersaglio alle loro infallibili lance, Allah lo vuole, non si potrebbe parlare con questo signor Allah, parlerete presto con Allah, meno male ci parliamo, è meglio fra galandù, d'uomini si può sempre avere delle spiegazioni, Marchese, ci parlarei con questo signore, vuoi parlare francese, oui, oui, messi, per la farfalla ci voleva, le farfalle ma se e poi si possono sui fiori, Antoni, accidente, a che ce l'hai ciappe me la manga, ce l'ha profittimi, gli app hepato, oh, 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 oh oh